NICOLAI VASILIEVIC GOGOL Le anime morte Sarebbe mia intenzione di venire proprietario dei contadini morti, che però risultino viventi al censimento, disse Cicicò. Manilov lasciò cadere la pipa sul pavimento e restò così, con la bocca spalancata, per diversi minuti. I due amici, che avevano appena conversato nell'incanto dell'amicizia, restarono immobili a guatarsi, gli occhi puntati l'uno sull'altro. Sembravano quei ritratti che un tempo usava a pendere l'uno in faccia all'altro, ai due lati della specchiera. Finalmente Manilov raccolse la pipa, e gli lanciò un'occhiata dal basso in alto, sforzandosi di scorgere un eventuale sorriso sulle sue labbra. Magari aveva scherzato, ma non si vedeva nulla di simile. Al contrario, il viso era semmai più compassato del solito. Pensò allora che forse l'ospite era improvvisamente uscito di senno, e spaventato lo osservò con attenzione. Ma gli occhi dell'ospite erano perfettamente limpidi, senza tracce di quel lampo selvaggio e inquieto che guizza negli occhi del folle. Tutto spirava ordine e decoro. Per quanto cercasse di farsi venire in mente una cosa da dire o da fare, Manilov non trovò di meglio che soffiar fuori il fumo residuo in un filo sottile. «Insomma, vorrei sapere, potrebbe cedermi, concedermi o darmi sotto qualsiasi forma di suo gradimento quei contadini che non sono vivi in realtà, ma lo sono per la legge?» Manilov, però, era così confuso e imbarazzato che si limitò a guardarlo. «Mi sembra di vederla in difficoltà», osservò Cicico. «Io?» «No, non è quello», disse Manilov. «Io non riesco a capire». «Deve scusarmi». «Io non ho ricevuto quella splendida educazione che, come dire, traspare in ogni suo gesto. Non possiede la nobile arte dell'eloquenza. Forse qui, nella dichiarazione che lei ha appena fatto, si cela dell'altro. Forse lei ha voluto esprimersi così alla ricerca di un bello stile?» «No», intervenne Cicico. «No, volevo dire quello che ho detto. Parlo proprio delle anime che sono morte». Manilov si smarrì del tutto. Sentiva di dover fare qualcosa, formulare una domanda, ma quale lo sapeva il diavolo. Fini che soffiò nuovamente fuori il fumo. Solo stavolta non dalla bocca, ma attraverso le narici. «Insomma, se non ci sono ostacoli, è fatta. Possiamo perfezionare l'atto di vendita», disse Cicico. «Atto di vendita di morti?» «Ma no», disse Cicico. «Noi scriviamo che sono vivi, come risulta effettivamente dal censimento. Io sono solito osservare tutte le leggi e lo Stato, anche se l'ho pagato caro in termini di carriera, per cui mi deve scusare. Ma il dovere è dovere, e la legge è sacra. Davanti alla legge io mi taccio». Le ultime parole piacquero a Manilo, ma il succo della faccenda continuava a sfuggirgli, e così, invece di rispondere, prese a succhiare il cannello della pipa, con tanta forza che quello cominciò a brontolare Rauco come un fagotto. Sembrava che volesse cavarne un'opinione in merito a una circostanza così inaudita, ma il cannello brontolava Rauco, e niente più. «Forse hai qualche dubbio? Ma la prego, neanche a parlarne. Non ho certo una qualsivoglia prevenzione nei suoi confronti. Solo, mi consenta di aggiungere, non sarà questa iniziativa, o per meglio dire, questo negozio, ecco, questo negozio, non sarà forse contrario al Codice Civile e ai disegni futuri della Russia?» Qui Manilo fece un movimento col capo, e fissò in viso Cicifo, con aria molto significativa, esprimendo, in tutti i tratti del volto e nelle labbra strette, una profondità che forse mai era stata scorta su un volto umano, tranne forse su quello di qualche ministro, ma solo in occasione del più grande rompicapo. Ma Cicifo rispose con semplicità che una tale iniziativa o negozio non sarebbe stato affatto contrario al Codice Civile e ai disegni futuri della Russia, e un minuto dopo aggiunse che l'erario ne avrebbe avuto un guadagno, sotto forma di legittime imposte. «Crede dunque?» «Credo che sarà un'ottima cosa. Se si tratta di un'ottima cosa e un altro conto, allora non ho niente in contrario», disse Manilo, e si tranquillizzò del tutto. «Ora resta solo da mettersi d'accordo sul prezzo». «Quale prezzo?» disse Manilo, e si bloccò. «Non penserà davvero che io possa accettare denaro per delle anime che in un certo senso hanno concluso la loro esistenza?» «Se proprio le è venuto questo desiderio, diciamo così fantasioso, io da parte mia non posso che cedergliele gratuitamente, e le spese e la vendita me le assumo io». Sarebbe davvero imperdonabile, per lo storico di questi avvenimenti, non raccontare quale soddisfazione si impadronisse dell'ospite dopo le parole pronunciate da Manilo. Per quanto fosse pacato e giudizioso, ci mancò poco che si mettesse a saltare come un capretto, in preda alla gioia più grande. Si rigirò sulla poltrona con tale impeto da strappare la fodera di lana del cuscino e meditare che Manilo lo guardasse con aria interrogativa. Eccitato dalla riconoscenza, cominciò da fastellare ringraziamenti su ringraziamenti, finché l'altro non si confuse. Arrossì tutto, scosse la testa in segno di diniego, e finalmente riuscì a dire che non era proprio niente, che lui voleva semplicemente dare un segno del trasporto del cuore. Del magnetismo dell'anima, e che le anime morte erano in qualche modo una vera corbelleria. Tutt'altro, disse Cicchikov, stringendogli la mano, qui venne emesso un sospiro profondo, ed evidente che si stava preparando ad aprire il suo cuore, e non senza calore e sentimento pronunciò infine queste parole. «Se sapesse che regalo ha fatto, con questa apparente corbelleria, a un uomo senza famiglie e senza radici, quante ne ho passate, come una navicella in mezzo ai flutti tempestosi, quante persecuzioni ho subito, quante amarezze ho ingoiato, e perché? Per aver amato la verità, per aver argito, secondo coscienza, per aver aiutato la vedovella inerme, l'orfano afflitto, qui addirittura il fazzoletto asciugò una lacrima che rotolava. Manilov era profondamente commosso, i due amici si strinsero lungamente la mano, e lungamente si guardarono negli occhi, che si andavano riempendo di lacrime. Manilov non voleva assolutamente lasciare andare la mano del nostro eroe, e continuava a stringerla con tanto ardore che quello non sapeva come liberarsi. Finalmente, dopo averla delicatamente sfilata, disse che non sarebbe stato male perfezionare l'atto di vendita quanto prima, e che sarebbe stato ottimo se l'amico avesse fatto di persona una visitina in città, quindi afferrò il cappello e si inchinò per accomietarsi.